ciao ragazzi oggi andiamo ad aprire questo pacchetto l'altra volta abbiamo provato con quello da 100 da 100 mila e non abbiamo avuto fortuna adesso proviamo schifo che schifo di portiere uscito che schifo è sì ragazzi un pacchetto da 125 k per trovare quello che state se vi è piaciuto questo video sosteneteci iscrivetevi al canale un bel pollicione in su e io vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao